Carissime telespettatrici, carissimi televisori, spettatori di Rossini TV, bentornati, bentornati all'appuntamento con Checkup Obiettivo Salute, il format dedicato alla salute e al benessere che Rossini TV realizza in collaborazione con Fisioradi Medical Center e bentornato, buonasera anche a Giovanni Stanzani. Buonasera, buonasera. Giovanni Stanzani, kinesiologo, laureato in scienze motorie, specialista nella riabilitazione dopo gli infortuni, quindi un ruolo davvero importante per chiunque avesse a che fare con un percorso di rieducazione post-infortunio, Giovanni. Innanzitutto, mi piaceva partire da una precisazione, kinesiologo. Cosa significa esattamente essere kinesiologo? Essere kinesiologo vuol dire essere colui che utilizza il movimento come cura, come cura o comunque come strumento per migliorare la vita. Quindi migliorare la qualità di vita, migliorare le proprie prestazioni, migliorare la propria salute e recuperare a seguito di problematiche di vario tipo. Siamo essenzialmente animali che si muovono e quindi il movimento è alla base della nostra vita. Poi è ovvio che con il tempo, con il periodo storico in cui viviamo, siamo sempre più portati alla sedentarietà. E questo però è anche quello che ci ha portato a essere sempre di più vittime di determinate patologie che non sono altro figlie di scorretti stili di vita, tra cui una carenza piuttosto ampia di movimento quotidiano. Pensate che argomento già toccato Giovanni, noi nasciamo da bambini, non facciamo altro che muoverci, ci sbattiamo, corriamo, ci spacchiamo la testa contro gli spigoli dei mobili eccetera, poi da adulti ci sediamo e diventiamo sedentari. È davvero un percorso al contrario. In realtà il movimento andrebbe esercitato continuamente, soprattutto, Giovanni, nei casi in cui si incorre in un infortunio. Un infortunio che può essere di tanta, che possono, gli infortuni possono essere di tanta natura, può succedere di tutto, infortuni di vario tipo, ma in linea di massima sono degli, proprio degli incroci nelle quali in alcune occasioni le persone possono cambiare la propria esistenza. Esattamente. A noi ci piace dire che spesso e volentieri alcuni infortuni possono essere proprio la fortuna di una persona. Da noi si rivolgono persone per tantissime tipi di problematiche, spesso di natura traumatica, spesso di natura medica di vario tipo, ma molte volte le persone che si presentano a noi, magari con una patologia di spalla, di ginocchio, vivono anche un contesto che non le permette di essere davvero efficienti, essere davvero in salute. E quindi il nostro obiettivo diventa sia quello di risolvere la problematica con cui sono entrate, e quindi dovranno seguire tutto un percorso, volto a recuperare dall'infortunio che hanno avuto, dalla problematica che hanno avuto. Però possono sfruttare questo percorso per capire che forse c'è qualcosa che potrebbero aggiungere alla propria vita, che potrebbe permettergli, anche a qualsiasi età, e questo è il bello, che non c'è un età limite per fare questo cambiamento, e diventare delle persone nuove. Nuove cosa vuol dire? In salute, più consapevoli di sé, più energiche. Quindi entriamo in un concetto in cui la persona entra con un problema, ma esce ovviamente, si spera con il problema risolto, ma con una consapevolezza di sé e di quello che le serve per stare bene, totalmente diversa. Certo, perché effettivamente quando capita di doversi riprendere, c'è il momento dello sconforto, il momento poi del percorso, il momento della ripresa e il bello del sentirsi, fra virgolette, rinati. Ma se a questo viene parallelamente effettuato una situazione, un percorso di miglioramento delle proprie capacità, diciamolo nel caso di Giovanni Stanzani, di kinesiologia, cioè di capacità di muoversi e di sfruttare meglio il proprio corpo, tutto non può che migliorare. Esattamente. Noi poi all'interno del centro abbiamo un ruolo molto importante, a me piace dire, perché noi alla fine siamo l'ultima figura, l'ultimo professionista della salute che loro andranno a incontrare. E quindi noi siamo un po' la chiusura del percorso e dobbiamo essere bravi a capire cosa è successo, per cosa sono entrati, a che punto sono arrivati e cosa noi possiamo lasciare a queste persone una volta che concluderanno il loro percorso. Per far sì che queste persone una volta uscite siano cambiate, siano cambiate davvero, siano delle persone con delle conoscenze nuove, conoscenze di sé, conoscenze anche culturali che le permetteranno di essere persone più in salute, sia da un punto di vista di movimento, per cui ovviamente si rivolgono a noi per capire cosa possono, cosa devono fare, ma anche per unire al movimento tutti gli altri punti fondamentali per far sì che la qualità di vita sia la migliore possibile a 360 gradi. E quindi oltre al movimento noi andremo a unire tutti i puntini per quanto riguarda l'alimentazione che noi invitiamo sempre di affrontare con il corretto professionista, quindi con il nutrizionista, le pratiche del sonno, spesso sconosciute alla gran parte della popolazione, ma fondamentali quanto l'allenamento e la nutrizione, o anche il semplice capire quali sono semplici agenti stressanti però che magari fanno parte di quella persona per tutta la giornata e che piano piano hanno comportato il manifestarsi di determinate problematiche. Un esempio classico come può essere la lombalgia o la cervicalgia che molto spesso non hanno una vera e propria natura traumatica, non derivano da un trauma diretto. Spesso sono semplicemente l'unione di tanti agenti stressanti che si sono accumulati nella persona nel corso degli anni. Carenza di sonno, stati d'ansia costanti, paura del movimento, sedentarietà, tutte cose che unite spesso possono portare a manifestarsi di alcune problematiche o anche semplicemente a una riduzione di quella che l'autonomia e la performance durante la vita. Certo, quindi in realtà hai affrontato un argomento anche questo collateralmente ma decisamente importante, gli stili di vita. Gli stili di vita ci condizionano, gli stili di vita sono fonte di abitudine, sono frutto di abitudini che ci tiriamo indietro negli anni ma che in certe situazioni si può provare a cambiare. Esattamente, ma non è che si può provare, si devono provare a cambiare perché la nostra esperienza è che un po' per il periodo storico in cui ci troviamo siamo sempre presi da lavoro, famiglia, diverse questioni che ci tolgono tempo per noi stessi e il tempo per noi stessi alla fine diventa una percentuale molto piccola, almeno per la maggior parte delle persone con cui mi confronto all'interno della palestra. Il problema è che tutto questo deriva dal fatto di non essere consapevoli che tutto ciò porta ad ammalarsi e semplici pratiche quotidiane e costanti però possono invertire questo trend negativo e possono farlo a qualsiasi età e possono farlo anche a livelli spesso non sperati. E questo è il bello però è anche la difficoltà del nostro lavoro perché almeno nel nostro campo non esiste non esiste nessun segreto il segreto è che non esiste nessun segreto non c'è l'allenamento magico e la scheda magica c'è il nostro lavoro costante per aiutare le persone a capire cosa hanno bisogno cosa devono fare nel quotidiano e proprio perché si parla di cultura non è una cosa che la ottengo dall'oggi al domani bisogna praticarla praticarla quotidianamente e magari non tra una settimana ma magari tra un mese avrò delle conoscenze in più che proverò ad applicare tra un anno ne avrò molte di più e magari tra un anno avrò avuto anche modo di vedere ottimi risultati con quello che ho applicato però serve tempo serve pazienza e soprattutto serve impegno perché i risultati non ci cascano giù dal cielo certo l'impegno è sempre alla base del raggiungimento degli obiettivi anche magari di quelli cui non si è consapevoli di mirare perché ritengo che appunto quando una persona intraprende un percorso dopo e torniamo al punto di partenza dopo un infortunio forse non si rende neanche conto delle cose che hanno portato all'insorgenza di quell'infortunio a meno che non sia come dicevi di origine traumatica e quindi effettivamente è un impegno che va focalizzato quindi la parola consapevolezza diventa fondamentale è determinante perché se non partiamo dalla consapevolezza prima o poi il problema si ripresenterà perché vorrebbe dire che una volta uscito da qua io inizierei semplicemente a ripetere gli stessi errori che mi hanno portato alla genesi del problema e quindi è inutile che io vado solamente a trattare quello che è il manifestarsi della patologia se non aiuto la persona a capire da cosa è generata quella problematica e l'aiuto e gli do gli strumenti per far sì che questo non si ripresenti più poi giustamente è una cosa che come dicevo prima richiede impegno e quindi richiede un investimento di tempo un investimento di risorse però fa la differenza fa la differenza e fa la differenza lo ripeto ci tengo a ripeterlo a qualsiasi età e ci può permettere di diventare persone sia più longeve ma non solo longeve ovvero non vogliamo ambire a vivere di più ma vivere meglio vivere meglio essere più autonomi essere più in salute ed essere più felici e siccome siamo esseri umani c'è anche un famoso che dice è un famoso detto che dice che recita errare umanum est perseverare diabolicum però sappiamo benissimo che poi ricadiamo molto spesso negli stessi errori che ci hanno portato all'insorgenza del problema bisogna anche essere un po' indulgenti con se stessi indulgenti con se stessi cosa significa comprendere che non è mai tutto nero o tutto bianco dicevamo prima giustamente fuori onda che non bisogna demonizzare nulla anche di magari pratiche che possono sembrare sbagliate l'importante come dicevi proprio tu è la dose esattamente faccio faccio un piccolo esempio adesso in medicina si sta parlando dell'approccio biopsico sociale e questo aiuta tanto a capire come la medicina sta capendo che la persona non è solamente biologia ma la bisogna valutare soprattutto nelle sue problematiche anche da un punto di vista sociale perché siamo animali sociali e psicologico perché ciascuno ha una propria psicologia e vive la sua vita a proprio modo se non teniamo in conto che la persona è formata da questi tre aspetti e ne trattiamo solo uno molto probabilmente la persona ricadrà sempre negli stessi errori come si può vedere spesso in nutrizione persone che provano molti piani nutrizionali e ritornano sempre allo stesso punto di partenza se non peggio perché? perché magari sperano che ci sia la dieta perfetta o anche il piano di allenamento perfetto quando anche lì come dicevo prima non c'è nessun segreto il segreto è che bisogna applicarsi quotidianamente le regole per star bene sono anche relativamente semplici ma sono faticose da applicare e non dobbiamo ammetterci fretta dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di tempo per cambiare lo stile di vita e delle volte come dicevano prima dobbiamo concederci dobbiamo capire di cosa abbiamo bisogno capire se queste cose di cui abbiamo bisogno quando e in che dose diventano disfunzionali per la nostra salute e trovare un nostro equilibrio ma è nell'equilibrio che possiamo trovare la strada per poter raggiungere uno stile di vita sano Giovanni è più facile applicare queste teorie e quindi poi tutto quello che ne consegue anche i risultati su persone definiamole normali che fanno una vita quotidiana di tutti i giorni basato su altro rispetto allo sport o diventa più difficile con gli sportivi magari professionisti con persone che sono abituate al movimento e che per un certo motivo si ritrovano a doverne fare a meno e poi rieducarsi è più facile applicare questi concetti con le persone sportive o è più difficile? Dipende ovviamente gli sportivi soprattutto gli sportivi agonistici di alto livello sono una classe a parte perché sono super uomini abituati a allenarsi diverse ore tutti i giorni a tenere stivi di vita molto rigorosi e quindi dobbiamo tenere in conto aspetti psicologici che si discostano un po' dalla media della popolazione perché dobbiamo tenere conto che queste persone magari lavorano col proprio sport fanno del proprio sport la loro vita è un infortunio nel caso di uno sportivo di alto livello professionista è un argomento molto complesso da trattare che deve essere trattato su più piani da più professionisti infatti molte quasi tutte le squadre ormai hanno uno psicologo all'interno del proprio staff proprio per affrontare queste problematiche perché durante un infortunio soprattutto un infortunio di alto livello ma anche una persona uno sportivo normale che però vive la propria vita magari col calcetto della domenica a cui dà molta importanza perché lo aiuta a svagarsi uno stop magari di mesi o di anni o una difficoltà a riprendere l'attività sportiva a seguito di un infortunio lo può portare a una sorta di depressione e va trattata seriamente non deve essere presa sotto gamba non dobbiamo prendere queste cose sotto gamba dobbiamo semplicemente essere bravi a capire di cosa bisogna la persona e soprattutto nel momento giusto indirizzarlo al giusto professionista che può essere l'esperto dell'allenamento l'esperto di nutrizione il medico in base alla patologia di cui si tratta lo psicologo qualsiasi professionista della salute pensate che Giovanni Stanzani che ci ha detto tutte queste cose così importanti ha un'esperienza giovanile lui è di Riccione maturata in spiaggia bagnino di salvataggio acquafan scusami è vero me l'avevi detto acquafan bagnino di salvataggio ma ti è mai capitato di dover affrontare delle situazioni poi di reale come ti posso dire pericolo soccorso all'aquafan cioè di dover rimettere in piedi persone che erano andate lì per tuffarsi da uno scivole si sono ritrovate magari con un problema grosso diciamo che posso essere testimone del fatto che si dà per scontato ormai in Italia che la popolazione media sappia nuotare in qualsiasi condizione ma così non è devi avere sempre mille occhi perché può succedere in qualsiasi momento e non è Baywatch dove la persona quando ha difficoltà salta sbraccia urla quando vanno giù vanno giù se li vedi li vedi se no stanno sotto l'acqua quindi capita capita tante volte però sono siamo un bel team eravamo un bel team e quindi riuscivamo sempre a spesso quasi sempre a prevenire quando non riuscivamo a prevenire l'evento riuscivamo a intervenire più velocemente possibile e dopo tanti anni tu pensi di poter dire che questa esperienza ti è servita no assolutamente sì è fondamentale fondamentale anche per interagire con le persone e capire le persone che la base è fondamentale del mio lavoro il mio lavoro non lo posso inquadrare semplicemente nel dare movimento perché non otterrei nulla non otterrei nulla perché vorrebbe dire limitarsi a una percentuale molto risicata di quella che può essere spesso una problematica di una persona Giovanni Stanzani grazie davvero perché ci hai fatto comprendere come attraverso più esperienze diverse situazioni movimenti diversi nella propria vita effettivamente si possa crescere e soprattutto ci hai fatto capire che non è mai troppo tardi mai assolutamente mi raccomando quello è un concetto a cui ci tengo esatto mai troppo tardi ricordiamocelo tutti grazie Giovanni Stanzani appuntamento lunedì prossimo continuate a restare su Rossini TV grazie a tutti